Voltiamo pagina, in un certo senso rimaniamo in un municipio attiguo e do la buonasera al nostro ospite Paolo Pace, ben trovato. Buonasera a voi. Buonasera, ex presidente dell'ottavo municipio, fresco di passaggio a Fratelli d'Italia. Lei lo sa, Pace, la sua esperienza alla guida del municipio, così come tutte le altre, gli altri mini sindaci, così come quella della sindaca Raggi in Campidoglio, sono particolarmente attenzionati dai media, così come fu per, fare un esempio per Pizzarotti a Parma, anche la sua vicenda politica ha avuto una grossa eco mediatica. Ne parliamo, se d'accordo prima però riassumiamo per tutti i passaggi di queste ultime settimane, che poi commentiamo insieme la scheda di Luigi Vittucci. Dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d'Italia, in mezzo alla presidenza dell'ottavo municipio, ora commissariato, La storia di Paolo Pace rappresenta per qualcuno la prima nota del canto del cigno dei pentastellati, un movimento che è andato a sbattere contro la realtà. Ed è proprio l'ex mini sindaco del municipio della Garbatella a parlare di una Roma commissariata, di correnti che si impongono sulla sindaca, limitandone anche l'ordinaria amministrazione. Una realtà che lo stesso Pace dice di aver vissuto nei suoi pochi mesi di presidenza, Una maggioranza che si comportava costantemente da opposizione, controllando e criticando ogni atto della giunta prima ancora che venisse prodotto con verie e propri blitz negli uffici amministrativi. E allora le dimissioni annunciate il 16 marzo dalla presidenza dell'ottavo e l'abbandono di un movimento di cui faceva parte dal 2012. Perché per l'ex mini sindaco i nobili principi che gli avevano fatto sposare la causa dei grillini non sono stati messi in pratica. Troppi ortodossi e troppe guerre interne, i lombardiani contro il raggio magico e l'ottavo municipio, per i più critici verso il movimento, rappresenta solo la punta dell'iceberg. Intanto Pace sceglie Fratelli d'Italia, una scelta non dettata solo da questioni politiche. Persone serie, professionalmente valide ed estremamente moderate, dice l'ex 5 Stelle. Il futuro è ancora da vedere, ma c'è chi parla di Regione Lazio come obiettivo finale. E allora, la domanda forse è scontata, lei l'ha raccontata, aveva cominciato nel 2012 circa nell'ottavo municipio ad aggregare un po' di attivisti attorno a un meetup nato anche attorno a lei, proprio nell'ottavo municipio. Da lì ha conquistato la poltrona di mini sindaco, poi che è successo? Cosa è successo? È successo che inizialmente abbiamo avviato questa nuova avventura con il massimo della passione e dell'impegno. Abbiamo cercato immediatamente, vista anche la mia indole di persona estremamente pragmatica, di avviare la seconda fase, quella di mettere in pratica le promesse elettorali. E proprio quando abbiamo cominciato a avviare questa fase abbiamo ravvisato i primi problemi con una parte dei consiglieri che immediatamente hanno cercato di ostacolare il lavoro, prima in maniera abbastanza tranquilla e successivamente sempre in maniera più intensa, fino ad arrivare a delle vere e proprie posizioni anche su temi sui quali noi non avevamo competenza e che erano tra l'altro assolutamente già definiti, come per esempio il completamento dell'avvio dell'attività e della riqualificazione degli ex mercati generali, tanto per parlare di un tema grande. È stata un po' la pietra dello scandalo più grosso. Quella sì, esattamente. Queste vostre frizioni. Sì, è stata una frizione grandissima perché, capisce, cioè abbiamo dovuto, loro volevano praticamente impedire che avvenisse un investimento di circa 650 milioni sul nostro territorio, di riqualificazione di un'area che ormai è un cratere da 15 anni, con tutte le carte già autorizzate in mano ai costruttori, perché nitificava il Germano Reale in quell'area. Cioè, non possiamo ragionare con queste persone. Quindi la cosa che in qualche modo ci ha fatto riflettere è che noi avevamo a che fare con un gruppo di consiglieri che non era preparato, che era incompetente e che soprattutto ci rimava conto anche per motivi ideologici. Ma lei non ha avuto modo di, fra virgolette, sceglierli o comunque selezionarli in parte, questi consiglieri, prima del voto? Assolutamente, no, non è possibile farlo, nel senso che lì, nel caso nostro, sono successe delle cose abbastanza inquietanti, perché nel momento soltanto pochi consiglieri erano il frutto di una vecchia militanza, diciamo così, nelle file del movimento, nell'attivismo. Purtroppo alcuni di loro, soprattutto quelli che hanno creato più problemi, sono il frutto degli ultimi giorni della precampagna e addirittura una di loro si è presentata il giorno stesso che c'era di Battista a raccogliere i nomi dei candidati. Quindi non avevamo la possibilità né di controllare chi fossero e né di poterli in qualche modo gestire, perché come diceva giustamente la sindaca, ci sono stati eletti dal popolo e che ci possiamo fare? Ve lo chiedo con grande franchezza, ha avuto la sensazione fin dai primi giorni che, in parte mi ha già risposto, però che le varie correnti fossero rappresentate nel Consiglio Municipale, cioè un Consiglio, così come magari si è sentito anche in altri municipi, un po' lottizzato dalle correnti a livello nazionale? Sì, sicuramente, perché il loro modo di comportarsi era chiaramente dettato da una mente esterna, da una logica esterna, più volte abbiamo ravvisato dei comportamenti simili anche in altri municipi, perché infatti questo non è un problema solo del nostro municipio, dove è scoppiato in maniera più eclatante, perché evidentemente erano questi consiglieri in maggior numero rispetto agli altri. Però gli stessi problemi ci sono in tantissimi altri municipi, io tutti i giorni sento diversi consiglieri di altri municipi che non sono d'accordo con le linee con cui viene portata avanti la politica nei vari municipi e con i quali tra l'altro stiamo portando avanti anche dei discorsi di eventuale e futura prossima collaborazione in altri ambiti politici, proprio perché quello che abbiamo rilevato, soprattutto per le persone che hanno una grande preparazione, a queste viene impedito di lavorare. Più sei preparato, più non ti fanno lavorare, più ti mettono il bastone. L'accusa che viene rivolta a partire dal livello nazionale, scendendo a livello locale e anche alla sindaca Raggi e anche a tanti altri mini sindaci 5 Stelle di recente elezione è che siano impreparati, che abbiano strumenti insufficienti per governare realtà complesse come Roma, ma anche come ogni singolo municipio di Roma, lei lo sa, sono delle mini realtà molto complesse da governare. È vero che c'è questa impreparazione di fondo ed è vero, come diceva, che il malcontento è trasversale a tante giunte municipali a 5 Stelle? Sì, confermo quello che lei dice, soprattutto per il fatto, ma non tanto per il fatto di essere impreparati, perché quello ci sarebbe rimedio, nel senso se uno è impreparato, studia, si prepara o comunque ha l'umiltà di chiedere a chi sa più di lui e quindi si riesce a mettere a pari, anche perché non è che ci si trova abbandonati all'interno di una struttura, c'è sempre la pubblica amministrazione, i dipendenti, i collaboratori che collaborano, o comunque si sono dei buoni professionisti e tecnici. Il problema è che quando ci troviamo in queste situazioni, queste persone non vogliono proprio imparare. Cioè io avevo dei consiglieri, così tanto per farle capire il livello di alcuni, che mi dicevano che la lipo era una specie di uccello tropicale e qualcun altro voleva cambiare il tuel in consiglio municipale. Cioè, ma si rende conto dei livelli e questa cosa gli è stata fatta notare più volte. Adesso questa chiaramente è una battuta su alcune cose, però il livello è quello. C'era una confusione tra potere politico e potere amministrativo, quindi c'era una sovrapposizione dei ruoli, c'era un'ingerenza dei miei consiglieri talebani all'interno degli uffici municipali, cosa gravissima, tant'è che tre sigle sindacali ci hanno scritto ripetutamente denunciando queste indebite ingerenze all'interno degli uffici. Quindi non è questo il modo di muoversi nella pubblica. Tra poco parliamo anche della sua scelta, quindi della sua nuova esperienza. Però per chiudere questo discorso sull'ottavo municipio è un paio di cose e poi abbiamo un servizio da mostrarle. Lei ritiene la sua situazione, un po' banalizzo, prigioniera un po' di queste correnti, di questi veti incrociati che ci sono all'interno del movimento, la ritiene assimilabile a quella che sta vivendo, barra vissuto Virginia Raggi, soprattutto nei primi mesi del suo mandato? Sì, io credo comunque che queste situazioni, come le dicevo, sono abbastanza comuni all'interno di tutti i municipi di Roma e anche nel comune stesso. Quindi lei se fosse stato in Virginia Raggi avrebbe fatto la stessa scelta che ha fatto dal presidente del municipio? Mi sarei dimesso perché io, a differenza di altri, non voglio, non potrò mai essere ricattato da nessuno perché l'essere ricattato impedisce di operare secondo una logica che dovrebbe essere quella del maggior profitto per la collettività. Di fatto stiamo constatando, ed è sotto gli occhi di tutto, che il comune di Roma sta andando avanti come se fosse commissariato. Cioè, probabilmente se ci fosse un commissario al posto della sindaca andrebbe avanti meglio. Perché si sta facendo soltanto ordinaria amministrazione, anzi, probabilmente nemmeno quella. Faccio il maligno in attesa delle elezioni nazionali, secondo lei ci si muove il meno possibile? Questa è l'idea che ha avuto? Guardi, io ho una brutta sensazione. Io credo che dopo le elezioni nazionali ci saranno dei grossi problemi al comune di Roma. Perché credo che tutto questo sia un attimino frizzato in attesa delle elezioni e poi si vedrà quello che accadrà. Cioè, le sei conti, insomma. È probabile, perché la situazione di questi gruppi di oppositori è molto forte. Hanno acquisito un gran potere e di fatto Virginia, che io stimo tantissimo, tra l'altro in qualche modo deve rispondere a questi poteri. Mi dice se fra i capi bastoni, i capi correnti, se a livello nazionale che locali, ha avuto il sostegno di qualcuno o invece è stato duramente attaccato da qualcun altro? Guardi, io non ho avuto nel momento del bisogno il sostegno di nessuno. Io ho sempre supportato la mia sindaca nel momento del bisogno, delle sue necessità e l'ho difesa anche con i miei consiglieri che l'hanno attaccata più volte anche sui media, sui social network. Quando ne ho avuto bisogno io sono stato praticamente considerato come un appestato probabilmente, perché nessuno mi ha dato il supporto che a un presidente di municipio andava dato, insomma, evidentemente. Le faccio sentire, così chiudiamo questa parentesi, l'opinione su questa vicenda, ma anche sul suo mandato del suo predecessore. Andrea Catarci, ex presidente del municipio ottavo, che l'accusa di aver fatto solo promesse e di aver tagliato servizi. Poi lì risponde. Sentiamo. Andrea Catarci, cosa sta accadendo nell'ottavo municipio? È accaduto che dopo le elezioni della scorsa estate, la vittoria dei grillini, anche in municipio come in Campidoglio, ci sono stati dieci mesi di disastri combinati a raffica, uno dietro l'altro, dall'aggiunta capitanata dall'ex presidente Pace. Dalle cose gravi, quindi posizioni urbanistiche servili nei confronti dei potentati economici, alle cose concrete, materiali, la chiusura di servizi storici, un centro Alzheimer, due ludoteche municipali, adesso uno spazio Bebi che arriva a conclusione. Il disastro della manutenzione urbana, scuole lasciate nell'abbandono più totale, il più grande asilo del municipio, quello di Via Tarso a San Paolo, chiuso per il terremoto, ma ancora non sono neanche stati avviati i lavori per restituirlo al suo uso importantissimo, fondamentale, quello di essere un asilo all'interno di un quartiere popoloso e bisognoso di strutture come San Paolo. Da ex presidente dell'ottavo municipio, quali sono i problemi proprio pratici nell'amministrazione quotidiana del territorio? Intanto, sotto gli occhi di tutti, come in tutta Roma, c'è un problema enorme di manutenzione urbana. Le tante chiacchiere del 5 Stelle sui rifiuti che sarebbero scomparsi, sulle strade che non avrebbero più avuto buche, sul verde che sarebbe tornato a rifiorire per incanto, sulle scuole che si sarebbero aggiustate da sole pur senza soldi ed appalti, si sono rivelate per quello che erano, chiacchiere da campagna elettorale. Adesso il municipio rimarrà senza un nuovo presidente fino al prossimo 2018, insomma questo è un dato di fatto. Esatto, e questa responsabilità enorme di lasciare un pezzo di Roma di quasi 140.000 abitanti sprovvisto di rappresentanza e quindi anche di tutela, perché le istituzioni locali sono anche un po' il piccolo sindacato del territorio, oltre a essere una struttura di governo, il 5 Stelle la rimuove completamente. Non sono stati loro. Non sono stati loro a fare i disastri di questi dieci mesi, non sono stati loro a imporre un presidente che per di più oggi è passato a Fratelli d'Italia riscoprendo la sua vena di destra evidente nell'attività di governo e anche nei suoi passati giovanili, ma che veniva prima accuratamente nascosta. Non sono stati loro a scegliere una modalità di commissariamento che è lavarsi nelle mani come i peggiori bonsipilati di fronte a tutte le questioni. Risposta di Paolo Pace. Andrea Caterci è una persona molto brava a parlare e a raccontare le favole, perché delle cose che ha detto non ne ho sentita una che sia vera. Tutte le argomentazioni che ha trattato possono essere smentite documentalmente. Il problema con il centro Alzheimer è un problema legato ad una gara, alla fine di una convenzione che riguarda aspetti amministrativi e sicuramente non politici. Ci sono stati problemi amministrativi nella gestione della situazione di un tecnicismo che poi è stato superato dalla nostra dirigente del municipio. Tutte le altre questioni non sono vere. E' stata chiusa una scuola perché c'erano delle lesioni, anzi quelle lesioni erano preesistenti anche durante il suo mandato e lui non si è premurato, come abbiamo fatto in vicino, di far fare delle verifiche che hanno portato poi alla chiusura. E non è vero che non è stato dato incarico, è stato predisposto a tutta l'attività tecnica necessaria compatibilmente con le finanze, perché come ha detto lui non è che ci siano soldi che avanzino. E la stessa cosa per tutte le altre cose che ha raccontato, diciamo, sono assolutamente e facilmente smentibili. Tra l'altro Catarci, nel momento che noi siamo arrivati in municipio, mi ricordo già dopo il primo mese, uscì con un post e si lamentò delle strade con le buche della mondezza fuori Cassonetti, esattamente dopo un mese che eravamo arrivati, come se avessimo la bacchetta magica e potessimo fare tutto. Lui c'è stato per 12 anni, abbiamo trovato un municipio veramente in macerie, anzi, bisogna riconoscere che per quel poco che siamo stati lì, molte cose sono state portate avanti in maniera egregia, dal mio punto di vista. Faccio un paio di domande da Avvocato del Diavolo. Tutte queste cose che raccontava prima sulle correnti, sui veti incrociati, è possibile che non le sapesse prima del voto? Assolutamente no, io sono entrato all'interno del movimento ispirato da questi principi, da queste logiche bellissime che tra l'altro erano le stesse mie, ho detto porca miseria, un movimento che ha delle logiche bellissime, quindi io mi sarei aspettato di poterle mettere in pratica, cosa che non è potuta avvenire. E tra l'altro queste correnti, se ne parlava degli altri partiti che ci fosse, però io in realtà al massimo mi aspettavo delle correnti che, come è naturale che ci siano delle correnti che poi hanno anche degli svolti positivi, perché la dialettica politica porta comunque poi alla fine a un compromesso. Perché portassero delle istanze e non dei blocchi. Esattamente, invece quelle erano fini a se stesse, cioè delle correnti che tendevano essenzialmente a distruggere un qualcosa senza nessuna ragione. Forse la ragione c'è ma non la conosco. Ai primordi del Movimento 5 Stelle si diceva che chi entra al Movimento 5 Stelle, con la casacca del Movimento 5 Stelle o fa politica dentro al Movimento o esce e si ritira l'attività politica. Lei invece sceglie non solo di rimanere ma cambia soggetto, è entrato in Fratelli d'Italia. Perché? Esattamente. Dunque, io ho fatto un ragionamento, io ho dedicato i cinque anni della mia vita a portare avanti un progetto bellissimo che nel momento della realizzazione mi è stato impedito di portare a compimento, cioè di concluderlo. Io avevo fatto delle promesse ai cittadini in un certo senso e quindi mi sono sentito da una parte depredato del mio tempo, che avevo in quel modo buttato in maniera assolutamente inconcepibile, perché il tempo è la cosa più preziosa che una persona possa avere, e l'altra delle promesse mancate ai cittadini. Quindi, subito dopo le mie dimissioni, sono stato avvicinato da tante forze politiche, dalla destra alla sinistra, che mi hanno offerto varie possibilità per poter proseguire questa attività, mettere a frutto l'esperienza maturata in questo periodo, ed è stata tanta, è stata veramente molto intensa. E devo dire che quelli che mi hanno convinto di più, come organizzazione, come garanzie, come supporto logistico e quant'altro, sono stati i Fratelli d'Italia. Per rispondere anche a Catarci sul fatto della mia militanza giovanile in Fratelli d'Italia, assolutamente non è vera questa cosa. Quindi lui ha attravisato ancora delle notizie che io ho dato in conferenza stampa, ho semplicemente detto che io facevo parte di un istituto tecnico-commerciale nel quale il fronte della gioventù era molto presente, tutto lì, e che nella mia classe c'erano delle persone che facevano riferimento a questa organizzazione. punto, non ho detto che io ero affiliato, partecipavo, simpatizzavo, assolutamente no. Quindi non è stato un militante della destra? Assolutamente no, io ero praticamente in una classe dove c'erano tante persone e quindi ero abituato a sentire, parlare di logiche di fronte della gioventù, fondamentalmente. La seguiranno altri suoi consiglieri che erano presenti in Municipio Ottavo, in questa avventura? Assolutamente sì, prossimamente ci saranno dei nuovi ingressi in Fratelli d'Italia, di ex consiglieri del nostro Municipio, ma mi auguro presto anche di altri Municipi, perché come le anticipavo prima sono in contatto con, sono un po' il punto di riferimento delle persone che non hanno trovato nel movimento il motivo di poter lavorare correttamente e per l'interesse veramente della collettività. E quindi stiamo raccogliendo questo, diciamo, questo malcontento, esattamente, e cerchiamo di convogliarlo in una forza che possa rispondere in maniera diversa e più organicamente, perché ricordiamoci, il movimento è destrutturato, nel senso che uno vale uno, quindi un mio consigliere si sentiva valere quanto la sindaca o quanto, non so, il Presidente del Consiglio. Questa cosa chiaramente non può essere accettata come discorso, se non a parità di condizioni, di professioni, di capacità, di professionalità e di competenze. Lei non si sente, è in parte quello che le avevo chiesto prima, però, di aver tradito un po' il principio del movimento, entrando in un altro soggetto politico? No, veramente è il movimento che ha tradito le mie aspettative e le aspettative del movimento, perché quando si creano dei principi e si fa della teoria e si impedisce alle persone che si ispirano a quelle linee programmatiche di realizzarli, secondo me questo è il più grande tradimento, se non si possa dire anche addirittura di un fallimento, eclatante di una politica che ha dimostrato tutti i suoi limiti, soprattutto per il fatto di non avere un'organizzazione, di non avere uno staff, di non avere una dirigenza in grado di recuperare queste situazioni facilmente recuperabili da un altro partito. Però al di là del municipio ottavo, lei mi ha detto, insomma, sta sentendo... C'è un fermamento, c'è del movimento all'interno anche degli altri municipi, dovremmo aspettarci, magari col culmine dopo le elezioni nazionali, anche rispetto a quello che sarà il risultato ottenuto dal movimento, una vera e propria diaspora verso altri soggetti politici, Fratelli d'Italia o altri in tanti municipi di Roma, cioè secondo lei è questo quello che accadrà se dovesse fare una previsione oggi e avrebbe delle ricadute pesanti sul governo della città. Sì, io credo che comunque subito dopo le elezioni politiche ci saranno dei grossi cambiamenti a livello di, come si può dire, di gestione politica anche a livello comunale. E molti municipi sono in forte crisi e sono in contrapposizione nel loro interno, anche se pubblicamente questa cosa non viene fuori. Però da fuori sono nel suo, di municipio. Sì, diciamo, è un contrasto che è stato fortissimo nel mio e quindi poi io non ho seguito i consigli che mi diceva di rimanere comunque a prescindere, limitando diciamo le mie prerogative, perché lo credo che sia inaccettabile. In altri municipi invece alcuni presidenti, che tra l'altro sono emanazioni dirette di alcune correnti piuttosto che di altre, quindi si stanno comportando in modo diverso, i consiglieri si muovono così. Quindi questo che dice lei è uno scenario che sarebbe assolutamente configurabile. Non so in che entità e in che misura, però credo che dopo le elezioni politiche qualcosa di importante accadrà. L'ultima cosa che le chiedo, Fratelli d'Italia la proporrà la guida del municipio Ottavo di nuovo col centro-destra o la proporrà per la Regione Lazio, come ho letto da qualche parte? Lei che farà da grande? Io sono entrato in questa organizzazione che si chiama Fratelli d'Italia fondamentalmente perché mi hanno garantito la possibilità di lavorare nell'interesse della collettività. Il mio scopo è solo quello di lavorare, operare e fare bene le cose e portarle a compimento. Quello che accadrà successivamente, se si deciderà di rimettermi in lista per una qualche carica al comune, al municipio, non lo so dove, lo vedremo prossimamente. Però è l'ultimo dei miei pensieri quello di essere candidato. Io tra l'altro ho dimostrato, abbandonando per la prima volta che ero nella storia, senza revocare le dimissioni, la carica di presidente di municipio. Nessuno l'ha mai fatto prima di me. Quindi questo significherà qualcosa, nel senso che se ero attaccato alla poltrona stavo ancora lì, avevo ceduto a ricatti ma stavo lì. Grazie a Paolo Pace per essere stato con noi, nuovo esponente di Fratelli d'Italia, ex presidente dell'ottavo municipio. Grazie a tutti.